40 Piazzoni accolto come raccomandazione se riformulato, va bene, 41 Coccia accolto come raccomandazione, va bene, 42 Beccattini favorevole, 43 Miotto parere favorevole con riformulazione, il Governo vuole intervenire? Sì, accetto, riformulo, mantengo il primo impegna, lasciando invece fuori il secondo impegna. Stiamo parlando del 43 Miotto? Quindi c'è una riformulazione che lei cambia, sopprima il secondo capoverso dell'impegno. Ok, va bene, si accetta? Sì, 44 Binetti favorevole, va bene, sì. Passiamo al voto finale, a facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giovanni Mottola, prego. L'Ainati vuole parlare al posto di Mottola, prego. Grazie, signor Presidente. Solo per annunciare a nome della nostra componente il voto favorevole e la richiesta di consegnare l'intervento. La ringrazio ed è ovviamente autorizzato. Colleghi, per favore. Collega Dell'Ai. Dell'Ai. Se tutti lo consegnano, lo consegno anch'io. È autorizzato. Collega Marco Rondini. Eccolo, arriva. Sì, Presidente, consegno anch'io il testo. Autorizzato. Se possiamo fare un applauso finale, evitiamo di farne uno ogni volta che dicono di consegnare. Undici, Monchiero. Prego.